Vediamo in questo video le caratteristiche del lettore audio che posso utilizzare attraverso l'ingresso usb. Mi sono già settato una song e la vediamo nell'audio recorder appunto take 1. Esco dall'audio recorder per avere a disposizione il display sui suoni corrispondenti e mi sono settato il pianoforte. Faccio partire la song. Song nuova, mai sentito. Ho abbassato appunto il livello. In questo caso posso suonarci sopra. Come potrete sentire il livello della song è un po' alto. Quindi posso attraverso un controllo andarmi a settare il livello d'uscita della mia song. Quindi vado su Sys Setting, Sound Generator, entro e ho tutti i volumi come l'intonazione dello strumento. Scendo e ho un audio volume e vado a portarlo. In questo caso lo mettiamo su 70 e sentiamo. Posso abbassare ancora un po', 68. A questo punto posso utilizzare la mia esecuzione con il suono. Posso cambiare il suono. Posso cambiare il suono. E così posso utilizzare il mio Pix5 come lettore di audio wave attraverso l'ingresso USB e suonarci sopra andando a cambiare i miei suoni e facendo tutte le mie regolazioni necessarie. Ciao ciao! Grazie a tutti!